te la ricordavi più veloce? la ricordavo più veloce ma forse perché quelle cose che guardi a distanza poi non so come quando le stanze ti sembrano più piccole quando ci torni da grande dal 1995 dall'album La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo abbiamo sentito gli anni 883 ed è un ascolto casualmente congeniale alla puntata di oggi perché è la seconda scelta del presente ospite Gianluca Mercadante ma è leggermente fuori dall'argomento hanno ucciso l'uomo ragno la leggenda anzi la leggendaria storia degli 883 che è la serie anzi la miniserie sulla bocca di tutti e di tutte arriviamo alla fine, non è un'anteprima, non vi stiamo annunciando cose che vedrete no vogliamo solo parlarne perché tra l'altro questa è una sede diciamo particolare perché ogni volta che vengono fuori gli 883 qui sull'aria elettrica noi abbiamo qualcuno che dice oh ma che schifo ok con vista la libertà di tutti e comunque di ognuno di dire e di amare e di apprezzare o disprezzare ciò che vuole e non posso non includermi in questo pregiudizio esatto perché tu anche sei assolutamente ah ecco scusami che Marinella mi spiega una cosa utile te la ricordavi diversa perché quella che gira di più, quella che Pezzali ripropone in concerto è la versione del 96 non è questa la versione del 96? no questa del 94 ah ecco perché ecco e quindi è leggermente più veloce si è accorto si è accorto che era un po' troppo lento vabbè no comunque dicevo ripeto gli 883 ti vedono non fan no assolutamente io sono far relativa nel senso che non so se andrei ad un concerto degli 883 o di Max Pezzali posso dire sicuramente che hanno fatto parte di un certo periodo della mia vita alcune canzoni le conosco a memoria ricordo perfettamente il periodo di hanno ucciso l'uomo ragno perché io ero piccola e ricordo benissimo mia madre insegnava alla scuola media e ricordo che una volta una sua alunna come regalo mi diede il testo che aveva scritto a mano di hanno ucciso l'uomo ragno io ero piccola perché ero alle 90 ero all'elementaria 92 sì decisamente io avevo due anni vabbè vergognati e quindi mi diede questo questo testo perché era la canzone del momento tutti la cantavano io anche la volevo cantare all'epoca non c'era internet e quindi lei mi diede il testo scritto a mano di questa di questa canzone me lo ricordo benissimo e hanno ucciso l'uomo ragno è stata effettivamente una canzone simbolo poi vi può piacere non vi può piacere potete pensare quello che volete degli 883 intanto parliamo di questo prodotto il prodotto serie 883 hanno ucciso l'uomo ragno che è un prodotto dal punto di vista estetico fattivo produttivo molto interessante una delle cose meglio fatte che io abbia visto negli ultimi anni abbiamo parlato di della stessa casa di produzione recentemente però appunto coprendo le carte hanno ucciso l'uomo ragno la leggenda la leggendaria storia degli 883 sulla carta poteva tranquillamente essere una monnezza improbabile una noia nostalgica incredibile ma a questo punto iniziamo a dare anche qualche riferimento perché è un prodotto di otto puntate 50 minuti ciascuno quindi è una miniserie ma in formato più mainstream potevano giocare sulla lunghezza sulla durata variabile su una struttura anche narrativa più articolata come fanno appunto tantissime altre blasonate miniserie ma questa è una miniserie che va dritta al punto essenziale ma racconta in maniera molto bella molto efficace una storia anzi due personaggi con caratteristiche veramente eclatanti oltre che eccezionali ma sono molto 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 presenti nella nostra memoria anche se come il sottoscritto io non avevo minimamente idea anzi recentemente mi sono andato a sentire i dischi i primi dischi degli 883 ma non avevo minimamente idea di cose tipo non me la menare o altro non se ne è accorto neanche il canale ufficiale della warner perché non me la menare cioè il lyric video è stato caricato quattro giorni fa ecco quindi anche questa serie ha prodotto delle degli effetti la serie è prodotta dalla groellandia di matteo rovere e all'interno della corpus di registi e registe c'è sydney sibilia mixed by harry smetto quando voglio e altro alice filippi e francesco e basta francesco e basta il director dei dei jackal ma questo trio realizza un prodotto veramente divertentissimo molto godibile godibilissimo più che divertente molto molto godibile e tutto questo è groellandia cioè la casa di produzione di non si può dire a vetrana ma qui non è hollywood e la leggenda di lydia poet cioè a vetrana è su disney plus hanno ucciso l'uomo ragno è su sky now tv eccetera eccetera e lydia poet è su netflix quindi è un triste di assi che l'italia dovrebbe essere mega orgogliosa tra l'altro appunto potrebbe tranquillamente andare oltre allora questa è una storia a proposito di andare oltre è una storia molto diciamo provinciale da un certo punto di vista perché loro mettono proprio al centro questo discorso della provincia anzi delle difficoltà del voler raccontare una provincia e essere un po' diciamo fermati da quel punto di vista dall'allora cecchetto che è stato il loro primo diciamo discografico produttore che appunto all'inizio era un po' incerto in realtà poi effettivamente quello che hanno fatto gli 883 è stato prendere una storia personale singola dei modi personali e singoli e renderli universali che è quello che poi fa una cosa che funziona cioè non c'è altro da dire che abbia funzionato storytelling che funziona esatto e questo va al di là diciamo del gusto musicale della perizia musicale qui stiamo parlando ovviamente di musica fatta con le basette no cioè nel senso loro stessi esatto per un po' ripeto non si capiva che senso avesse nella storia poi ce l'ha avuto ce l'hai molti se vedete la serie vi rendete conto finalmente qual è di qual è stata l'importanza di Mauro Repetto perché nessuno di noi l'aveva capita ma nessuno di noi gli aveva neanche chiesto neanche gli avevamo chiesto sì l'unica cosa su cui ci siamo concentrati è che è andato a fare il coso a disneyland a malapena perché lui balla in realtà se non ci fosse stato Repetto credo che Max Pezzali noi non avremmo neanche saputo chi era e molti di voi dire diranno ah sarebbe stato meglio no sì no boh non lo so sarebbe stato diverso sarebbe stato diverso tra l'altro Fabrizio ci scrive io la cassettia del not su dove stessa me la sono comprata con i miei soldini e ci sono andata in motorino a collecchio per comprarla al disco più cioè queste sono le cose Carlotta pure ci scrive la serie l'abbiamo guardata con le mani sugli occhi perché eravamo certissimi che sarebbe stata una vaccata e invece quello che funziona in questa serie a parte la storia stessa che scoprirete essere ora tutto vero boh non lo so gran parte vero sì sicuramente qualcosa c'è perché ci sono anche dei video che testimoniano cioè dei video reali quindi qualcosa è vera qualcosa magari è calcata un po' è comunque una storia che parte incredibile e esce ancora più incredibile perché raccontata bene raccontata con un modo intelligente si tratta degli 883 poteva trattarsi di chiunque altro cioè il punto sicuramente per chi è un affezionato per chi ricorda in qualche modo gli 883 all'interno della propria vita ha un senso forse maggiore ma va bene anche per chi neanche sa chi siano gli 883 è questa la cosa fondamentale devo dire che molto fanno anche gli attori i protagonisti in particolare ovvero Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto sono pazzeschi cioè hanno a parte il fatto che Elia Nuzzolo ha preso la parlata di Pezzali non so se questo non so neanche da dove venga ora lo vado a cercare comunque è nato a Prato ah beh quindi no non c'entra effettivamente niente ci sono dei chilometri 24 anni no sono veramente un cast di primordi bravissimo anzi Elia Nuzzolo probabilmente ha addosso il difetto più grande della cioè i capelli quella specie di coso non capisco esattamente il motivo per cui abbiano dovuto ricostruire l'attaccamento erano i capelli che ci aveva Pezzali all'epoca però sembra veramente sembra Pee Wee Herman un personaggio degli anni 80 tra l'altro che appunto maneggio con però vabbè però appunto il grande valore è nella scrittura di questa serie la scrittura e le sceneggiatura cioè l'ideazione è a cura di Francesco Agostini Chiara Laudani Giorgio Nerone e Sidney Sibilia che hanno curato anche la sceneggiatura le otto puntate saranno hanno già ricevuto l'ok per una seconda stagione ma il la cosa più vicina che poteva diventare questo progetto è una sorta di across the universe però in salsa in salsa bagna cauda padana sì poteva andare veramente male tra l'altro appunto anche i comprimari non semprissimo a fuoco sì per esempio l'interprete di Fiorello è molto il difetto è che sono personaggi tutti i maschi tra l'altro lo so ma sono talmente connotati sono davanti ai nostri occhi adesso quindi è molto complicato cecchetto riesce ad andare un pochino sopra le righe nota di merito a Edoardo Ferrario che interpreta il produttore degli 883 ma lì è più facile perché Peroni non è un personaggio cioè è un po' un dirlo le quinte esatto e poi Ferrario fa Ferrario Ferrario fa Ferrario per cavoli suoi e se ne frega ampiamente di fare Peroni che tanto voglio dire non è fondamentale se siete curiosi e come noi avete visto la serie con il secondo schermo a verificare ma veramente ha fatto questa cosa il cantagiro veramente è successo questa cosa sappiate che ci sono tra l'altro appunto Max Pezzagli è anche molto munifico di raccontare recentemente anche in vista prima dopo durante il tour che tra l'altro lo riporterà in un grandissimo concerto a Capodanno se non sbaglio farà il forum con il DJ Time adesso passano col coso con con Rastrello con Rastrello ma appunto come ha detto Mercadante prima siamo contenti anche per lui perché ci sta simpatico magari è un mangiatore di coniglietti soffici non si sa fatto sta che alcune cose della storia so nella realtà sono andate anche oltre la la fantasia e banalmente semplicemente sentire all'interno della puntata del basement di Gianluca Gazzoli la parte precedente all'incontro con Cecchetto è ancora più paradossale ancora più divertente va detto che questa serie racconta proprio gli inizi l'inizio del loro successo da prima della maturità all'uscita del disco da prima del cioè l'unico scusate dal primo disco quindi Non ci sono Moragno nel 92 se andate a rivedere la discografia di quegli anni 92 Non ci sono Moragno 93 North Sud Ovest Test 95 La Togna Il Sogno Il Grande Incubo 97 La Dura Legge del Gol 99 Grazie Mille cioè voglio dire fino al 99 sono album che tutti conosciamo almeno la maggior parte di noi in qualche modo ci è venuto a sbattere contro uno di questi album quindi voglio dire questi ragazzi hanno fatto una cosa grossa poi come sono finiti possono piacere non avete non lo so ognuno può fare quello che vuole però e poi sa che la storia è una storia è una storia molto molto interessante il vedo da dalle reazioni al 351 5241 101 che c'è stata appunto è la serie più vista su Now TV e Sky del momento quindi era ovvio che di trovare in voi anche una certa risonanza Carlotta continua a scrivere attori bravissimi guardate come muove le mani Elia Nuzzolo che tra l'altro ha interpretato la versione giovane di Mike Buongiorno in una film tv che è stato presentato alla festa del cinema di Roma recentemente ma è andato sulle reti Rai ancora più di recente il gesto che ripete che ricorre anche nella storia di Repetto gli manca tanto così sì questo è proprio un gesto cinematografico per me sono veramente tocchi d'artista quelli lì è assolutamente sì assolutamente sì sono tutte cose in scrittura non è veramente il valore aggiunto è l'assetto è il pensare una storia del genere portando appunto prima che sul set sulla carta determinati argomenti determinate tematiche determinate anche cose luoghi tra l'altro c'è un pezzo di radio elettrica dentro hanno ucciso l'uomo uranio non l'abbiamo visto non l'abbiamo visto quindi non lo possiamo sapere per bene io mi fido della persona che adesso vi svelerò perché appunto in tempi non sospetti vi avevamo detto mi raccomando guardate questa serie perché c'è un pezzo di radio elettrica perché tra gli attori comparse esattamente nella scena nelle scene ambientate in radio tra i tecnici di radio dj c'è anche il nostro Gustavo Tagliaferri poi cercatelo potete anche chiedere meglio di quanto abbiamo cercato noi sì dovremmo andare con il fermo immagine sperando che non sia stato espunto al montaggio però c'è un pezzettino anche di noi e quindi siamo molto contenti se volete Gustavo Tagliaferri trasmette regolarmente il mercoledì dalle 12 alle 15 su radio elettrica e di rado trasmette gli 883 così per rassicurare Grappamen che mi chiedeva ah ok stanno sentendo gli 883 spengo abbiamo finito abbiamo finito adesso non ci stai sentendo ma dopo andiamo su Terrifier non so se ti può essere utile o meno per quanto riguarda invece l'influenza della musica degli 883 possiamo tranquillamente dire che senza gli 883 il pop italiano adesso non sarebbe stata la stessa cosa sarebbe probabilmente stata quella cosa che avevano in mente i caotici discografici che un po' vengono raccontati in questa serie un po' gente così umorale mettiamola così però appunto i vari ma anche dico dei nomi anche a ragion veduta i vari Calcutta i vari con la pesce di Martino ma gli stessi dei giornalisti Tommaso Paradiso probabilmente ha se gli togliamo una pellicina esce Max Pezzali dal pollicino diciamo che volente o non ente gli 883 qualcosa hanno lasciato che vi piacciono o meno che ci piacciono o meno è relativamente importante come qualsiasi fenomeno si possono guardare anche solo per l'interesse del capire che cosa è successo sì beh certo non dobbiamo certo sposarceli no certo che me frega a me non posso anche non ascoltarli gli 883 però noi vi possiamo dire che la serie è molto ben fatta e voi ce lo state confermando proprio perché arriviamo alla fine di una grandissima una visione di grande massa dicevo della musica attuale perché nel 2011 Rock It pubblicava diffondendolo in maniera free una compilation di cover cover libere sugli 883 e sentite cosa facevano i cani con gli 883 eccoli qua di cover di cover di cover di cover Grazie.